Carissimi amici, oggi torniamo nella serie di Ice Cream Horror Brawl, il gioco multiplayer della serie di Ice Cream del nostro caro Rodino il Gelataio Oggi siamo qua perché è uscito finalmente il trailer della stagione 3, finalmente fra pochi giorni potremo provare la nuova stagione e scoprire insieme tutte quante le novità Quindi in questo video andremo a fare la reazione al trailer, poi vedremo anche le novità in arrivo e faremo anche qualche bella partita, no? Giusto un po' per riprenderci la mano Quindi nel frattempo lasciate questi tantesimi like per supportare la serie, se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Sempre prima di partire ci tenevo a ringraziare Benedetto Diego perché ha fatto la donazione in Super Chat durante la premiere, ti ringrazio davvero tanto per il supporto Ma adesso direi di partire, cominciamo, in questo video voglio anche parlarvi della questione amicizia, no? Perché tanti mi chiedono sempre nei commenti Panino, mi accetti l'amicizia su Horror Brawl, in questo video vi spiegherò tutto quanto, come mai, cosa sta succedendo, quindi restate sintonizzati Adesso però direi di passare al trailer, andiamo a vedere insieme il trailer della nuova stagione Eccolo qua, trailer della nuova stagione, stagione 3 di Horror Brawl, tocchiamo subito play, andiamo a vedere com'è fatto questo trailer, vediamo che cosa c'è nascosto, vai! Horror Brawl, stagione 3, si comincia, eccolo qua, cosa? Ma ha sentito un Rod, si guardate! C'è un Rod che è uscito fuori, e ha congelato Rebecca, ma lì fuori c'è un altro Jay Guardatelo lì Rod, come sta rincorrendo Jay, ma che sta succedendo? Guardate lì, sono arrivati! Sono arrivati! Mike e Liz, guardateli qua, due nuovi personaggi con le nuove skin Adesso tu puoi giocare, sia come Mike, sia come Liz, guardateli Mike, com'è questa skin, tutto quanto robotico, ma cosa? E questo invece è Liz, cosa? Un jetpack dietro? Ma può volare col jetpack? Ah, che tra l'altro adesso ci sto facendo caso Ogni personaggio ha delle potenzialità, cioè ha dei propri poteri, eccolo qua, stagione 3, il 3 maggio! Quindi fra pochi giorni potremo giocare a questa nuovissima stagione di Horror Brawl, il 3 maggio, tenetevi pronti Perché ovviamente ci sarà un video, farò il video su Horror Brawl dove proviamo insieme per la prima volta questa nuova stagione Ma adesso ho preso pure degli screenshot di questo trailer, andiamo a vedere insieme le cose più importanti che sono nascoste Ma soprattutto vediamo insieme quale saranno le novità che potremo trovare nell'Horror Pass di questa terza stagione Ecco qua, il trailer comincia in questo modo, Horror Brawl, stagione 3, finalmente la terza stagione Chissà se questa terza stagione avrà tanto successo come la seconda oppure no Infatti Horror Brawl, quando è uscito con la prima stagione, ha avuto poco successo Con la seconda stagione, con l'arrivo di Rod, ha avuto un grande successo Vediamo se questa terza stagione sarà in grado di replicare lo stesso successo della stagione 2 Allora, poi vediamo qua, all'interno di questo trailer, come Rod congela gli altri Quindi comunque anche questa seconda, anzi, anche questa terza stagione sarà sempre legata alla serie di Ice Cream Noi pensavamo che sarebbe stato collegato con Mr. Meat E invece niente, ci becchiamo Ice Cream anche nella stagione 3 Quindi vuol dire che uscirà come se fosse un nuovo capitolo di Ice Cream, no? Alla fine con Rod che va in giro a congelare Ma questa volta i bambini non saranno soltanto più 4 come erano prima Perché si aggiungeranno anche Mike e Liz Guardate qui Rod come sta rincorrendo Jay con questa skin Qui possiamo notare comunque degli elementi particolari, no? Ad esempio la mappa pare che sia la stessa che c'è anche su Horror Brawl stagione 2, no? Però forse potrebbe essere cambiata, forse la cambieranno Troveremo delle modifiche, io lo spero Perché così almeno giochiamo anche con un'altra mappa Perché comunque giocare sempre con la stessa mappa dopo un po' uno si dice annoia Poi comunque sappiamo che la mappa di Horror Brawl stagione 2 è anche molto piccola Quindi una bella mappa grande non farebbe male Ma guardate qua, vicino al camion della Nancola Al cinema, cosa sta succedendo? Si è aperto il portale di Nasrath Si è aperto un portale E da quel portale usciranno loro due Mike e Liz La coppietta proprio C'è Mike che è innamorato di Liz Insomma sono arrivati insieme qua Per affrontare Rod Infatti qua dice è arrivata la cavalleria Guardateli qua Tutti quanti insieme Possiamo proprio vederli adesso proprio dal vivo Cioè nel senso come saranno all'interno del gioco Devo dire che li hanno fatti molto particolari Molto singolari Sono carini come personaggi Li hanno fatti molto molto bene Almeno così vediamo anche la differenza Rispetto a come li vediamo nella serie di Ice Cream Qui sono in uno stile un po' più cartonesco Per adattarsi proprio allo stile grafico Di questo gioco di Horror Brawl Non vedo l'ora di provare tutte e due Sia Mike che Liz Sono veramente curioso E qui possiamo già vedere Delle prime skin Che probabilmente potremmo sbloccare Attraverso l'horror pass Quindi ci sarà anche un pass Con nuove skin Da prendere e da sbloccare E chissà se ci saranno anche delle skin Per quanto riguarda i personaggi horror Quindi anche su Rod E anche su Sister Madeline Speriamo Perché una nuova skin di Rod Non mi dispiacerebbe Tra l'altro c'è anche da dire una cosa Questo pass sarà quindi dedicato Comunque principalmente Ai due nuovi personaggi Liz e Mike Avranno quindi un grande ruolo Mi fa anche pensare un'altra cosa Mike e Liz insieme Nella serie di Ice Cream Potrebbero avere un ruolo principale Per quanto riguarda proprio Lo sviluppo della serie di Ice Cream stessa No? Quindi anche tipo Ice Cream 7 8 Qualche sarà Andiamo avanti con l'immagine Adesso tu puoi giocare come Mike E Liz Guardate lì qua I due amichetti Come sono Una Liz agguerrita È un Mike che viene trascinato Cioè guardate qua C'è proprio Liz Che prende in mano Mike E lo sta trascinando Come se fossero entrate all'interno del portale di Nasrat Perché Liz ha preso Mike Che l'ha portato lì dentro Per andare a combattere insieme i suoi amici Contro Rod il gelataio Mi piacerebbe comunque Se un giorno mettessero la possibilità Di poter scegliere Se giocare come bambino O come personaggio horror Tipo non so Una sorta di Sempre Battle Royale Ma con il personaggio horror All'interno del gioco Magari sarebbe bello Magari mettere poi la missione Che i bambini devono sconfiggere il personaggio horror Sarebbe molto divertente E guardate qua la skin di Mike Con lo zaino d'orologio Va bene E qui c'è il nostro caro amichetto Mike Con questa bella skin Tipo robotica Qualche Tipo Non lo so Futuristica Mi vengo a dire così Ma guardate qua Leggete bene Mike Comincerà sempre Con un'arma Quando ne giocheremo con Mike Avrà sempre un'arma Con cui andare in battaglia Bellissima sta cosa Spettacolare Non vedo l'ora di provare Mike Ma soprattutto di provare anche la sua arma Che potrebbe essere tipo Non so Una versione evoluta Dell'electrogun Chissà se metteranno proprio delle nuove armi stesse Nel gioco stesso E qua possiamo notare una Liz Con il jetpack E però Liz Ma se tu hai il jetpack dietro Usalo per volare E volaci con sto cosa Beh veramente Sarebbe divertente avere tipo Un qualcosa Un oggetto Che ci permette di volare Su Horror Brawl Magari per qualche secondo Noi stiamo volando Per qualche secondo Magari possiamo fare tipo Non so Spostarci più velocemente Tra una zona e l'altra Chissà se in futuro Le implementeranno queste cose Sarebbero molto interessanti Ma soprattutto Renderebbero il gioco Anche più completo Ed eccola qua Liz invece si rigenera gradualmente Quando noi giocheremo con Liz Se prendiamo dei danni Possiamo tipo Metterci in un angolo E pian piano Recuperiamo automaticamente Le energie Non abbiamo quindi bisogno Né di medikit E neanche di mele E qui possiamo notare Sembra un'altra skin Eccola qua La skin di Liz Tutta quanta fioraia Skin dell'amore Mi verrebbe da chiamarla così Perché qua possiamo notare Il famoso profumo Che c'è anche su Ice Cream 2 Quello che noi diamo a Mike Che Mike stesso vuole poi E regalare a Liz A combattere contro Rod il gelataio Agguerriti Uno peggio dell'altro Beh no Veramente Liz è molto agguerrita All'interno di questa stagione L'hanno fatta molto agguerrita La cosa mi piace Molto molto bella sta cosa Voi invece cosa preferite Giocare con Mike O con Liz O con tutte e due Fatemelo sapere qui sotto In un commento Andiamo avanti qua Ed ecco qua La schermata Proprio della stagione stessa Horror Brawl Stagione 3 Sta per arrivare Fra pochi giorni Ma quando arriverà Beh Fortunatamente il trailer Ci ha pure svelato La data di uscita ufficiale Il 3 maggio Il 3 maggio Potremmo giocare ad Horror Brawl Che il 3 maggio Aspettate che giorno è Controllo qua dal calendario E un martedì Martedì 3 maggio Potremmo giocare ad Horror Brawl E divertirci insieme Non vedo l'ora Di provare questa nuova stagione Insieme a voi Ma adesso Già che ci sono Come vi ho detto prima Voglio riprenderci un po' la mano Su questo gioco Quindi devo fare qualche breve partita Vediamo come va Giusto un po' per riprenderci la mano E poi vi parlo anche Della questione delle amicizie Ok Quindi direi di andare a fare qua La partita Ma si mettiamo Coppia Non ci gioco da una vita In modalità coppia Quindi vediamo come va Però ecco Anzi io direi anche Di cambiare personaggio No così già che ci sono Mi completo pure L'arca Di William Quindi selezioniamo William Andiamo in partita Tocchiamo play E si parte per una nuova avventura Ad Ice Cream Horror Brawl Ad affrontare altri giocatori Altri avversari Ecco una cosa che mi piace di Horror Brawl È che quando devo fare le partite C'è poca attesa da fare Nel senso che si parte subito giocare Vai Sta caricando la partita Vediamo con chi mi hanno messo in squadra Spero con qualcuno Che non si vada a fare gli apparacci suoi No Ogni volta qua finisco in squadra Con uno che si fa le cose proprie E mi abbandona sempre Vai Si comincia Ed eccoci qua Mi hanno messo con un J Che ha pure una sua skin William Buonasera amichetto Tutto bene Tutto bene Non abbandonarmi Allora vedo anch'io cosa c'è Eh però questo mi apre le ceste Che dovrei aprire io Io rimango senza niente Vabbè Ho un medikit qui dentro Invece cosa c'è Una fionda Vediamo qua La fionda è molto potente come arma Tu apri qua Ok Perfetto Amichetto dove vai Hai trovato la chiave per caso C'è per caso la chiave blu Di qua Vediamo qui di lato No Non mi dispiacerebbe la chiave blu Si sta prendendo tutto praticamente Si è preso tutto quanto Vabbè Io comunque sono ben armato Quindi Non ho bisogno di andare a cercare altre cose Allora amichetto Vediamo qua se c'è Sì c'è qualcuno di là C'è qualcuno di là Vediamo se riusciamo a prenderlo Vai Su Spara Ma Ma sta fionda Oh E che roba E che roba Via 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 Chi mi sta sparando Aiuto 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 Qualcuno mi sta sparando Mi sta shottando Aiuto 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 Andiamo 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 Velocemente Veloci 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 Me ne salgo di sopra Perfetto perfetto Ok Così ne approfitto anche un po' Per ricaricarmi No Visto che avrei bisogno del medikit Su Ricaricati Veloce 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 Prima che arrivi qualcuno Prima che qualcuno venga da queste parti Di corsa Ok Siamo belli carichi Siamo carichissimi Vediamo qui se c'è qualcosa Qualcuno già aveva aperto questa cesta No Ok Non ci stava niente di particolare Io direi di fare una cosa Dove è andato il mio amichetto Se n'è già sparito Se n'è andato via il mio amichetto Dove è finito Ah sta di là Andato di là Ma che roba Allora ma gli altri giocatori Possiamo che nessuno sta perdendo Sì qualcuno è di là Ho visto qualcuno da quel lato Ok Vediamo qui intorno se c'è qualcosa di particolare Proviamo a vedere Dai che nessuno ci sconfiggerà Dai che ce la facciamo Uh Qualcuno è già entrato di là Non è una cosa bella Non è per noi una cosa bella Chi avrà preso la chiavetta blu In questo gioco Predente ci vuole tanta concentrazione Ecco qua Spara spara Perfetto Ok vediamo Sì Ci manca soltanto più una pietrolina del caos No 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 Il mio player è colpito Qualcuno lo sta colpendo Ok Perfetto perfetto Dove vai? Dove pensi di andare te? Non vai da nessuna parte C'è qualcuno di là Aiuto No Ma dai Eh vabbè accettiamo qua Peccato Volevo salvare il mio amichetto Cioè per andare a salvare l'amichetto Ho perso l'energia Vabbè Usciamo qua dalla partita Vabbè Era una partita di riscaldamento questa Adesso comunque Eh no Tocchiamolo grazie Tocchiamo esci Voglio parlarvi un po' Della questione amicizia Perché tanti mi chiederò Parino Mi accetti l'amicizia su horror brawl Allora io le accetterei pure l'amicizia Però c'è un problema Che io fino a 50 amicizie posso avere Cioè tutte quante le nuove richieste Io non le posso accettare Se vado qua su richieste infatti Provo ad accettare la prima E accettiamo Non me la faccio accettare Guardate Rimane sempre qua Va bene Io direi di fare una cosa Va Direi che per il momento Potevo fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere Chi preferireste fra Mike e Liz Su horror brawl Spero che questo video Ti abbia piaciuto Se vi è piaciuto Mi racconta Spallicciate che si vedete Iscrivete al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una Buona visione Ci vedo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti Buon parino tutti